In questo video vedremo come un cliente possessore di gift card la può ricaricare. Andremo sul cliente selezionato, vedremo qui in alto il valore della sua gift card, andremo in basso sulla scritta promozioni, clicchiamo, andremo a cliccare sulla voce ricarica gift card e sceglieremo il lavorante che si occuperà di questo, in questo caso Rossi Luana. Daremo l'importo, 150, sempre il prezzo reale che andrà a pagare il cliente e attribuiremo un valore di 200, andremo a cliccare su ok. Ci viene chiesto la tipologia di pagamento, scegliamo in base all'esigenza del cliente, clicchiamo ad esempio su contanti, continuare con la ricarica della gift card, sì, ci compare la scritta in alta fatto, e la gift card, se andiamo a chiudere questa piccola schermata, sarà già ricaricata. Resterà sempre in cassa e dopodiché possiamo continuare ad erogare i servizi che potrà pagare tranquillamente con la gift card ricaricata.